carissime amiche amici benvenuti sul canale oggi dovrete avere un po di pazienza perché il video sarà piuttosto lungo in quanto c'è molta carne al fuoco per la riflessione del caso liliana prendendo spunto da tutto ciò che è stato detto ieri a questo grado quindi alcune cose sono doverose alcuni punti soffermarci per cui vi chiedo un po di pazienza cominciato dal titolo cominciamo dal titolo che dovrebbe essere questo liliana una stiratrice per due e poi sottotitolo carmelo abate serpin un atteggiamento da codardo e vigliacco così è stato detto quindi questo è il titolo che potrebbe avere il video tanto per farvi rendere un'idea mi sono dovuto segnare tante cose ieri sera a questo grado è andata in onda quindi un'altra puntata della telenovela resinovic con l'oragonista claudio serpin un personaggio che andrebbe analizzato da da qualcuno diciamo che ha molta specializzazione per tutto ciò che impunamente al mio avviso dice e che le trasmissioni gli permettono di dire partendo dall'esonio presupposto che egli possa essere stato l'amante di liliana resinovic e che niente di meno la stessa dovesse lasciare il marito per andare a vivere con lui questa che è diventata una brazzelletta questa mistificazione purtroppo ripetuta nei mesi per molte persone è diventata la realtà una realtà che evidentemente non esiste e che non è mai esistita fino a prova contraria ovviamente secondo quelli che sono i pochi elementi disponibili ci troviamo semplicemente innanzi a una persona anziana insomma 83 anni ex potista che in gioventù era stato molto in vista tra le tra le amicizie normali vi era anche quella con la resinovic per la combinazione che lei da ragazza praticava anche lo sport potistico e lui era il campione di riferimento dell'epoca era rimasta una generica conoscenza con la consegna un paio di volte l'anno di queste domande di contributo all'ufficio protocollo della regione dove lavorava liliana e niente di più nessun tipo di frequentazione lo serpin nel frattempo ha avuto due mogli liliana fa la sua vita sostanzialmente felice con sebastiano questo ce lo testimoniano le foto i video gli amici poi dopo la morte della seconda moglie mesi dopo e dopo che succede che prima vanno delle rumene a casa sua a fare servizi ma poi se ne scappano via non si sa perché ecco che lui casualmente poi incontra liliana e e si presenta diciamo a lei con le vesti del del povero vedo anziano rimasto solo che ha bisogno di un aiuto in casa liliana essendo una donna dolce e sensibile si impietosisce di questo vecchio amico e si offre di dare una mano questo è ecco fosse libero c'è lo sbaglio per come la vedo io da lì parte una pressione sulla donna e la fantasia nella sua mente di voler prendere il posto di sebastiano questo è mio avviso quindi si inventa una serie di messaggi criptali d'amore e non solo poi incontri a luci rosse a casa sua pur confermando di essere impotente a causa delle operazioni di prostata poi si invoca una perizia informatica per vedere se fossero veri quei messaggi d'amore ma niente di niente no niente non filtra nulla tanto da costringerlo a dire io so di non avere nessuna prova il testimone solo io lui testimone di se stesso però ci sono tante telefonate certo certo ma del contenuto di quelle telefonate non sapremo mai non sapremo se magari liliana aveva paura non so di una presenza ossessiva non lo sapremo le uniche cose che filtrono da questa perizia informatica è che liliana faceva ricerca sempre di casa che serpino voleva far passare fatte per andare per andare dove dove c'è per trovare la casa sebastiano non si capisce perché mentre invece erano ricerche per cambiare casa con sebastiano in quanto tante volte liliana era andata con sebastiano nelle agenzie e lo aveva detto anche ad amiche che voleva cambiare casa perché dove stava era un po umida fredda un po fu di mano senza garage poi viene fuori che solo due volte liliana aveva digitato una ricerca su quanto tempo ci voleva per ottenere il divorzio che lo serpino vuole far passare questa come prova di qualcosa quando è una ricerca a parte molto estemporanea e chiaramente fatta per conto di qualcuno che già essendo separata volesse sapere quanto tempo per ottenere quei divorzi credo sia tutto qua un po in nulla mischiato al niente quindi premesso tutto questo premesso tutto ciò la verità giornalistica avrebbe imposto di dire premesso questo che è veramente è quello che si doveva dire egregio signor serpino lei è un sedicente amante ma non ha nessuna prova di ciò né nessuno lo ha mai testimoniato né nessuno vi ha mai visti per cui noi della stampa diciamo e dell'informazione la possiamo presentare solo come vecchio amico ma nulla di più perché non possiamo egregio signore attribuirle un ruolo che non le appartiene che non ha dimostrato perché altrimenti ciò sarebbe lesivo sia per la onorabilità e la dignità della vittima stessa che per quella anche del marito della vittima e di tutta la famiglia in generale ecco questo bisognava fare in assenza di prove perché altrimenti ognuno di noi da oggi in poi sarà autorizzato a definirsi amante di qualcuno di qualcuno di qualcuno solo solo per averla conosciuta ecco questo non mi sembra sia una cosa fatta bene ma ormai l'informazione sembra diventata sorda e cieca ragiona per luoghi comuni persidisce e dà per scontato che queste fantasie fantasie di serpino siano cose vere quindi c'è da dire solo amen non c'è niente da da aggiungere su questa cosa qui e allora ecco che l'adone l'adone di basovizza grazie all'appoggio di questi amici improvvisati riesce a diventare prima rappresentante e postavoce dei familiari di liriana fratello compreso poi autoproclamandosi congiunto ed entrando di forza diciamo in quest'albero genealogico della famiglia roba da matti ma su questo aspetto torneremo fra poco perché 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 ieri a quarto grado andato in pasto diciamo agli attoni di spettatori un ennesimo salto di qualità della sua fantasia prefigurandosi in una sorta di gioco dei ruoli che gli sarebbe stato il nuovo marito e che l'iliana andava a stirare le famose camicie a casa di sebastiano ma su questa deriva mentale torneremo dopo dopo perché andiamo con ordine per vedere cosa ha detto prima di ciò che è poi è tutto un annaspare nel fango in trasmissione si vede in collegamento anche sebastiano un po dimesso un po sofferente con gli occhi lucidi mentre nell'altro collegamento uno serpin che è proprio un collegamento registrato ovviamente uno serpin impettito come un pavone con gli occhi asciutti senza emozioni e che si appresta ad esibirsi nel suo show del venerdì inizia dicendo che secondo lui l'iliana è morta il 14 dicembre e dato che qualcuno sui social ricordati in questi giorni aveva preso di mira il suo furgoncino degli spritz per dire chissà magari forse l'avrà usato chissà forse stava in montagna e sai cos'è qua il posto a bagagli la posizione fetale allora lui si innamora definitivamente stavolta della ipotesi frigorifero fu un frigorifero a uno o due gradi precisa da dove l'avrebbero tirata fuori due persone per trasportarla poi lì dove l'hanno trovata ma c'è di più perché mentre questa cosa è curiosa perché mentre per me se ci ci siamo chiesti noi che siamo neofiti insomma della cosa ci siamo chiesti ma essendo quella una zona recintata ma ma dove mai sarebbero potute passare questi assassini beh ma colpo di scena lui dice ma ma che problema ci sta ci fa vedere un varco un varco che esisteva a suo dire nella rete di recensione dove si poteva benissimo entrare e dove entravano già tossicodipendenti per andare in quell'area insomma isolata e ci accipicchi dico io e ricordo tante riflessioni dove come hanno fatto cioè e noi che per mesi ci siamo domandati ma come qualcuno si avrebbe potuto introdurre questo corpo di Liliana complimenti davvero complimenti comunque comunque dopo di ciò interviene il generale Garofano che smentisce smentisce purtroppo categoricamente l'idea frigorifero che definisce impossibile e getta ancora dei dubbi sulla perizia medico legale citando delle casistiche di colleghi americani per cui si potrebbe pure ipotizzare dice che viste le temperature comunque abbastanza basse di Trieste considerate i vestiti indossate la parziale copertura del corpo con i sacchi neri possa essere accaduto anche che il corpo si sia conservato bene fin dal 14 dicembre e quindi l'ipotesi che possa essere sempre rimasto lì quindi un po' diciamo un tornare punto e a capo poi però riprende state tranquilli state comodi amiche 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 state comodi mettetevi rilassate sul divano se volete io mi fermo pure un minuto così il tempo che voi vi sedete state comodi tranquilli perché riprendere le retini in mano non sterpino ripetendo che che loro erano molto innamorati e che lui ha raccontato solo certe cose certe cose che facevi non è tutto perché dice ho raccontato poco rispetto al vero si è limitato senza dire altro e quindi capirai fango su fango luci rosse su luci rosse magari a casa beh lui ha detto le baci le cose ma magari avrà organizzato un set cinematografico a luci rosse ma come io dico come 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 si può tollerare tutto ciò ad ombra chissà cosa nessuno dice niente neanche il fratello neanche il fratello quest'uomo dipinge la sorella in questo modo e non c'è nessuna dichiarazione va tutto bene va tutto bene dice noi eravamo in simbiosi simbiosi ce ne siamo accosti troppo tardi capirai e dopo dopo 40 anni se ne accosti tu pensa tu pensa dice alla alla giornalista ma tu pensa pensa troppo da venire la pelle d'oro tu pensa che una donna che ti che ti scrive 25 ottobre sono 42 anni che ci conosciamo che brividi sulla pelle pensa te una donna che ti scrive questo ti viene quell'amore quella cosa che ti sciocca parole parole profondissime e poi e poi circa un mese dopo dice un mese dopo ti dice ti ricordi la nostra prima volta perché ricordavi il posto della prima volta lui lui dice io no non ricordo ho fatto la figura del piffero e lei mi ha detto il giorno immaginate immaginate la scena lei dice mio caro mio caro cam cam ti ricordi ti ricordi dove l'abbiamo fatto noi la prima volta ammessa che ci sia stato poi una prima volta dice lui ma beh ti ricordi dove l'abbiamo fatto la prima volta no non ricordo dimmi cam cam quando l'abbiamo fatto vedi l'abbiamo fatto lì dietro quel melograno era perché i giorni ad esempio il 15 giugno del nel 1980 pensate c'è roba di 40 40 anni fa 42 anni fa dai tempi come si dice da noi ai tempi di pappagone una vita fa erano le 15 11 minuti di un pomeriggio caldo manuvoloso era talmente impressa quella cosa che lei ricordava il posto ricordava il giorno e lui no non lo ricordava qualcosa di indimenticabile ma che finezza quest'uomo che che persona per bene che signore ma è incredibile hai voglia hai voglia sebastiano a sebastiano lui racconta delle sue fantasie dice sebastiano sono fantasie ormai ormai evangeli invece però qualcosa si muove perché il troppo è troppo vedete anche in trasmissione la dottoressa carmen pugliese che ex pm che spesso non è stata tenera con sebastiano ammette quello di liliana magari non sarà stato un matrimonio bello ma claudio non ha mai dimostrato che sia esistito un rapporto tra lui e liliana una sintesi diciamo perfetta ma non finisce qua non finisce qua perché il clou è come i fuochi d'astificio i fuochi d'astificio stanno nel finale della festa non è che fanno prima i fuochi d'astificio e poi fanno la festa fanno prima la festa e poi i fuochi d'astificio quindi il clou il clou della serata la perla la perla che mancava il vaneggiamento il vaneggiamento globale che fa male ascoltare se si è persona intelligente fa male ascoltare è questo gli si domanda ma quindi secondo lei liliana era una donna spaccata in due fra lei e sebastiano si da una parte voleva stare con me ma non voleva abbandonarlo completamente e non escludo che si poteva fare lei stava con me e sarebbe andata poi da lui a stirare le camicie anziché a me e per me lo poteva fare benissimo cioè iliana che nel gioco dei ruoli diventava moglie sua e andava a stirare le camicie a sebastiano che magari diventava l'amante oppure una sorta di bigamia all'incontario ecco perché dice io per me poteva farlo di andare qualche volta a stirare le camicie a sebastiano se sebastiano aveva bisogno di una mano ecco e beh il capovolgimento dei ruoli capite tanto tanto dice io lo avevo già detto quando lei veniva da me all'inizio diceva fai venire a sebastiano tu stiri le camicie perché lei poi è proprio il ruolo di stiratrice di camicie lei non poteva fare altro in qualunque ruolo lei stirava le camicie ma quante camicie ci sono ma che cosa sono se che ma quante camicie ci sono questi uomini che pieni di camicie allora dice farlo venire mentre tu stiri le camicie da brava schiava della casa e noi ci prendiamo il caffè perché lui faceva il caffè a sebastiano quindi poi viceversa mentre tu stiri le camicie a lui a sebastiano è sebastiano che fa il caffè a lui perché poi cambiano quindi voi immaginate la scena no? se fosse capitata questa cosa qui quindi Liliana che era andata a vivere con con la donna di Basovizza e Sebastiano a casa sua che riceveva una o due volte la settimana questa Liliana ex moglie e si prendevano il caffè diceva ciao Serpino ma come ti trovi come ti trovi con la mia ex moglie si composta bene che dici ti da fastidio ti trovi bene ah sì 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 non c'è male mi trovo bene si composta mi fa piacere perché vedi poi da tanti anni è una donna affidabile trattala bene mi raccomanda perché è docile poi poi se non ti trovi bene alla fine come disse lo stesso Serpino poi me la puoi anche rimandare come non poto arrendere e si trova bene quindi dormi ancora nella sua tavernetta nel suo divanetto lì vicino all'asse da stilo allora si trova bene lì bene poi ogni tanto mi raccomando farle fare pure un giro fuori può anche uscire ogni tanto insomma è che questi discorsi davanti al caffè che magari prendevano a casa Vicentin quando sarebbe venuta insieme al neo marito Sterpin per stirare le camicie a Sebastiano non è possibile che noi dobbiamo ancora andare appresso a queste cose e nessuno dice nulla nessuno non nessuno dice nulla ma vedete sono cose che fanno fanno pure ridere ma sono cose vere sono cose che passano silenti che non si fanno nemmeno vedere poi in giro sui social perché sono cose veramente incredibili rispettose e riguardose non c'è rispetto non c'è dignità non c'è nemmeno amor proprio dove sta il fratello Sergio dove sta dove sta la cugina la cugina dove stanno gli amici del cuore che spendono parole così dolci nei confronti di questa donna che non c'è più dove stanno è normale per loro difendere ancora questo soggetto difendere ancora questo soggetto e voi anche le donne in genere ma trovate dignitoso la descrizione di una donna morta che viene descritto buona per tutte le stagioni che andava lì poi andava a casa dell'altra andava poi a stirare a casa dell'ex marito una stiratrice a domicilio una bigamia giochi a luci rosse perché poi lui ha raccontato qualcosa dei baci carezzi e gli acuzzi ma dovevate vedere poi quelle che facevano e va tutto bene voi che vedete voi che scrivete voi che commentate va tutto bene e questo questo personaggio l'antilope di trieste non è nuovo a dire cose del genere senza che nessuno insolga già aveva detto se ricordate che voleva proporre a sebastiano l'affitto di una casa vicino a lui con la faccia proprio sulla sul costile di casa sull'osticello di casa serpin aveva detto lui che amava la bigamia che se la moglie fosse stata ancora in vita ricordata le avrebbe proposto di vivere tutte e tre insieme che sognava che sognava di stare in paradiso e camminare mano nella mano da un lato la moglie da un lato la liliana e camminavano in questo paradiso perché giustamente un paradiso lui mica mica può andare all'inferno ma è un uomo così buono ma che ma per carità e nessuno vedete una donna buttata in pasto veramente nessuno interviene nessuno dice nulla e chissà mi chiedo se la procura ti racconto di tutte queste anomalie vogliamo chiamare anomalie l'informazione poi l'informazione sta lì giornalisti si fa finta di niente è un personaggio che forse fa spettacolo un macabro spettacolo è proprio lui poi lui lui che non ha alibi perché dice che lui è l'alibi di se stesso lui è testimone di se stesso è lui che non ha alibi e fa tante di quelle cose strane che ci siamo detti insomma le plavie nel costile sotto casa di liliana tanti movimenti assurdi e chiedono a lui a lui superpastas gli dicono signor Serpin ma lei ha dubbi su sebastiano perché c'è tra me dall'altro a chi lo devi chiedere? dice lei ha dubbi su sebastiano e lui lui dice beh secondo me secondo me sì lui certamente sa qualcosa di più sicuramente e allora in questa informazione vedete appiattita che io non ho più come definire e mi dispiaccio faccio un plauso però ieri a questo grado faccio un plauso e veramente mi devo quasi incinocchiare di fronte a Carmela Abate che io a volte ho criticato sapete perché non ci siamo trovati d'accordo soprattutto ai tempi del caso Denise Pipitone io veramente mi devo incinocchiare davanti a lui davanti alla alla sua intelligenza su questo caso la sua intuizione veramente io vedete c'ho la telecamera fissa altrimenti io mi incinocchierei proprio perché è stato ieri veramente semplicemente strepitoso per quello che ha avuto il coraggio perché oggi ci vuole il coraggio di dire certe cose ha detto Carmela Abate parola più parola meno però me la sono segnata ha detto questo tizio adesso da lontano trova il coraggio di accusare di dire certe cose la verità è che qui c'è un solo aggressore che è lo Serpin l'aggressore e c'è un aggredito che è Sebastiano che è la parte l'esa questo signore dice è un codardo ecco usa questo epiteto è un codardo ed è pure un bigliacco come compostamento è un bigliacco è un codardo e Sebastiano è stato fin troppo educato con lui e continua se si inventa certe cose non sono veri quindi nemmeno i messaggi il contenuto dei messaggi ma quali messaggi dice è una bufala anche la jacuzzi i bagni nella jacuzzi nella vasca e per me dice non aveva nessuna relazione con Liliana se lo è inventato come si è inventata la cella frigorifero e tutto il resto baci compresi quindi Carmela Abate finalmente e lo fanno parlare meno male dipinge il quadro come di un vero millantatore questo ha detto ieri Carmela Abate ecco questo è il suo pensiero ecco allora io dico ai giornali, ai giornalisti a questo punto visto che anche un vostro collega chiaramente ha capito questo perché definire ancora amante questo personaggio oppure amico intimo intimo di che cosa, per quale motivo solo perché lo dice lui allora pensiamoci pensiamoci bene ok? e vi dirò di più tra i vari contributi che vanno sul web che mi hanno segnalato vedete che si guarderanno bene dal far vedere ad esempio l'intervento di Carmela Abate che è stato un intervento duro, forte che ha detto sostanzialmente quelle che pensano in tanti ma che pochi hanno il coraggio di dire anzi anzi magari si leggono commenti di donne proprie che offendono addirittura la memoria di Liliana pur di mantenere in piedi il loro idolo il loro idolo dei piedi di argilla ok? quindi io vi invito perché non lo metto qui nel video qua vi invito però visto che nessuno ve lo farà di vedere di andare a vedere la puntata di Quastocrato e in particolare quelle che ha detto sia la donna di Basovizza ma soprattutto andate a vedere quelle che ha detto Carmela Abate che ha messo secondo me secondo me la pietra tombale sulla credibilità di questa persona andatela a cercare perché nessuno ve lo farà vedere lo ha chiamato comportamento da Cotardo e da Vigliacco penso che sia molto interessante comunque per concludere abbiamo alla fine assistito a una pagina di show triste ieri sera che ha visto un mi è dispiaciuto un Sebastiano comunque sofferente che incassa incassa senza sapersi adeguatamente difendere dice dice sì che questo tizio vaneggia nella sua fantasia ma ma deve sentire infancato ancora il nome della della moglie continuamente un estraneo alla sua famiglia che si permette di dire che al telefono alle 8 e 22 ha zimproverato ha sgridato ha zimproverato Liliana che da alcuni giorni non si faceva sentire cosa avrà passato mi dico io questa donna che evidentemente si è tenuta tutto dentro ma con quale diritto si usano questi termini lo zimproverata lo zimproverata c'è rimproverare ma chi è per rimproverare rimproverare a chi cosa era per lui che chi è allora Liliana era come una bambina una sua sottoposta una sua dipendente da rimproverare immaginate una donna sposata di 63 anni che lui doveva rimproverare come come si permette anche di usare questa terminologia quindi fino ad oggi non c'è nessuna prova che lui avesse alcun suolo nella vita di Liliana nulla solo parole sue dette a sproposito offensiva calunniose non rispettose delle donne in generale di Liliana in particolare eppure lo serpine dice che non si inventa un piffero proprio ha detto ma forse lui potrebbe essere il pifferaio magico che incanta la gente mi fermo qui vedete sono allungato troppo stasera era doveroso scusate la lunghezza era necessario fare questo commento ognuno con la propria coscienza ecco nei 3S le proprie conclusioni le proprie deduzioni in una maniera oggettiva obiettiva senza alcun tipo di schieramento questa è cronaca è cronaca di ciò che è accaduto quindi vi auguro una buona domenica state tranquilli sereni grazie sempre dell'affetto e dell'amore con il quale con i quali mi seguite un abbraccio a tutti i quali voi con i quali